Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Un uomo originario della provincia di Taranto è rimasto coinvolto nella notte in un grave incidente. Sulla strada che porta alla città, il 55enne a bordo della sua auto avrebbe sfondato la ringhiera del cavalcavia precipitando dopo un volo di diversi metri. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che hanno accertato la morte dell'uomo deceduto a seguito del violento schianto. Sul luogo anche gli agenti della sezione volanti della questura ionica. Il mezzo nell'impatto al suolo si è accartocciato rendendo difficoltoso il lavoro degli stessi vigili del fuoco intervenuti. Non sono ancora note le cause alla base del sinistro. Avevano messo in piedi un fiorente traffico di reperti archeologici e numismatici. I carabinieri del comando per la tutela del patrimonio culturale hanno eseguito questa mattina in diverse regioni d'Italia, in collaborazione con il ROS di Roma e lo squadrone li portato, carabinieri cacciatori Puglia, un'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 21 persone. L'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Trani giunge al termine dell'indagine denominata Canusium avviata nel 2022 a seguito dell'individuazione nelle campagne di Canosa di diversi scavi clandestini. Alle spalle un'organizzazione criminale composita tombaroli, ricettatori di zona e areali e trafficanti internazionali. Il sodalizio con basi operative nella provincia di Bat con diramazioni in Campania, Lazio e il resto della Puglia, aveva avviato un proficuo canale commerciale di monete archeologiche frutto di scavi clandestini eseguiti in Puglia e Campania. Le stesse venivano poi cedute dai vari ricettatori ai diversi trafficanti internazionali, i quali provvedevano a immetterle sul mercato illegale globale attraverso case d'asta estere, recuperate dai militari diverse migliaia di reperti archeologici tra ceramiche e monete archeologiche in oro, argento e bronzo, 60 tra metal detector e arnesi utilizzati per lo scavo clandestino. Oltre a ciò anche documentazione contabile attestante le varie transazioni in Italia e con l'estero. Dopo gli atti di vandalismo di recente registrati a danno di alcuni mezzi di chima e mobilità, la società mette in campo una serie di azioni a tutela della sicurezza. Dal prossimo weekend verrà impiegato anche personale di un istituto di vigilanza convenzionato, ha annunciato il presidente della società Alfredo Spalluto, per garantire la sicurezza degli autisti e dei passeggeri dei nostri autobus. Da sabato prossimo, nelle serate delle giornate prefestive e festive a partire dalle ore 20 al terminal del porto mercantile, ci sarà una squadra di verificatori di chima mobilità con una guardia giurata che assisterà agli autisti nel controllo dei passeggeri sugli autobus diretti ai quartieri periferici. Una pattuglia dell'istituto di vigilanza convenzionato, inoltre, stazionerà permanentemente con un'auto allo stesso capolinea, pronta a intervenire in caso di necessità. Sarà inoltre operativo il red button installato anche su tutti gli altri mezzi che l'autista potrà accendere in caso di allarme in contatto con le forze dell'ordine. I poliziotti della squadra volante sono giunti alla biblioteca a Clavio dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto in corso, sorprendendo un giovane uscire di tutta fretta dalla struttura. Il presunto ladro, ferito ad una mano, ha tentato di allontanarsi in direzione di via plateia quando è stato bloccato. Il 22enne aveva infatti cercato di forzare il distributore di bevande posto all'interno della biblioteca, rompendo il vetro e ferendosi con i cocci. Sul posto giunti gli operatori del 118 che hanno medicato il giovane, mentre gli agenti hanno recuperato un tablet marchiato Moodyt che lo stesso aveva prelevato. Nello stesso frangente altri poliziotti erano giunti presso il museo, allertati dall'istituto di vigilanza privata proprio per il furto di strumentazione tecnologica. Il 22enne, già con precedenti, è stato arrestato. Coltivava marijuana nella sua abitazione. In casa di un 28enne residente alla Terza, era stata allestita una piccola serra domestica realizzata artigianalmente. I carabinieri del nord di Castellaneta, assieme ai colleghi di La Terza e Marina di Ginosa, hanno rinvenuto nell'appartamento del giovane piante di marijuana all'interno di sei vasi. I militari hanno trovato inoltre tre buste in cellofan contenenti oltre 200 grammi di fogliame di cannabis indica e materiale utile a mantenere in vita le piantumazioni. Il vetto ottenne è stato denunciato. Con la recente approvazione della legge regionale di istituzione della figura dello psicologo di base, è stata avviata un'importante iniziativa per rispondere ai bisogni assistenziali dei cittadini pugliesi, con l'obiettivo primario di prendersi cura delle persone, in particolare della loro salute, relativamente agli aspetti psicologici. L'assessorato ai servizi sociali del comune di Taranto esprime la propria soddisfazione per questa iniziativa regionale, quale esempio di buona politica che si mette in ascolto della comunità. Sono fermamente convinta che la legge potrà dare un importante contributo, ha dichiarato l'assessore ai servizi sociali Gabriella Ficocelli, anche e soprattutto ai bambini e agli adolescenti che mostrano in questo complesso momento una sempre maggiore esigenza di aiuto. Protesta questa mattina sotto palazzo di città ad opera dei lavoratori ex Pasquinelli. Le contestazioni, organizzate dalla segretaria provinciale UGL Cira Basile, giungono a seguito della sospensione del servizio di raccolta differenziata da dicembre scorso, per la quale 21 impiegati sono rimasti senza lavoro. E niente, praticamente noi stiamo per l'ennesima volta a protestare, siamo gli ex Pasquinelli dove 21 famiglie a fine maggio ancora si ritrovano senza un lavoro. A detta del sindaco che due settimane fa abbiamo avuto un incontro diretto, si doveva procedere a fare un affidamento diretto con un'azienda per poter permettere di rientrarci nel Pasquinelli o affidarci a dei servizi per chimambiente. Questo però da venerdì abbiamo saputo che non è più possibile e non riusciamo a capire che cosa sia successo per impedirci di rientrare nel nostro lavoro. Si è tenuta questa mattina presso la Scuola di Alta Formazione Studi specializzata per professionisti a Taranto in via Anfiteatro l'inaugurazione del nuovo polo didattico dell'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. Il polo universitario Unitelma Sapienza istituito presso la nostra sede di Taranto rappresenta il naturale completamento di una già più ampia offerta formativa per un ente di formazione che ha come obiettivo formare qualità, ha affermato la direttrice della Scuola Domenica Leone. La Scuola di Alta Formazione Studi specializzati per professionisti ha l'attivo partnership con le più qualificate espressioni del mondo della cultura e dell'istituzione a livello nazionale ed internazionale. Rappresenta inoltre un'eccellenza nel panorama delle università telematiche italiane e aggiunge ulteriore valore alla nostra offerta formativa. Ha concluso la direttrice. Sì, allora noi siamo sul territorio tarantino dal 2017 e diciamo che noi il nostro, diciamo, fiorello occhiello è la realizzazione di questi master internazionali che noi svolgiamo da più di sei anni con la collaborazione di tantissime università italiane e internazionali, in quanto i nostri master internazionali svolti da docenti di alta qualità vengono erogati su piattaforma della scuola. Ecco che per noi oggi è una grande festa essere riconosciuti come Polo Unitelma Sapienza. L'Unitelma Sapienza è una tra le eccellenze universitarie italiane telematiche e a noi attribuisce quel valore aggiunto alla nostra formazione, perché noi appunto il nostro obiettivo è formare qualità. Beh, una giornata di festi innanzitutto, una giornata in cui l'Università Unitelma Sapienza, che è un'università che fa capo a Sapienza, Università di Roma, in quanto è il suo partner principale che la detiene con circa il 90%, ecco ha deciso di investire su questa bellissima città grazie alla volontà imprenditoriale dell'Avvocato Domenica Leone. Di questo siamo molto contenti, siamo in una sede molto bella. È una città che ha grandi spazi di crescita, di crescita professionale e quindi pensiamo di poter dare un piccolo contributo proprio nel far sì che i giovani di questa città rimangano sul territorio e siano i protagonisti del futuro proprio per questa città, che è una città veramente bella e che penso che nel futuro avrà sempre maggiore soddisfazione. Quindi è un momento veramente bello, un momento noi abbiamo 25 sedi in tutta Italia, ecco questa di Taranto si aggiunge a quelle loro già precedenti e devo dire che è una grande loro soddisfazione, abbiamo lavorato già da tempo, abbiamo una collaborazione consolidata, quindi ci sono tutte le premesse per poter fare un buon lavoro. Grande successo e grandi applausi stasera al Teatro Orfeo 1915 con Dammi Tempo, un originale e attualissimo testo scritto e diretto dall'autore e regista Clarizio Di Ciaula con gli attori Anna Daniele Ancona, Antonella Chiloiro, Lucia De Stefano, Daniele Torre, Alessandra Laghezza, Silvio Alopane, Antea Mallito, Gaetano Manzulli, Anna Moscarello e Serena Salerno. Il tempo non si può vendere e non si può comprare, questo è il motivo della pièce teatrale che ha divertito il pubblico fino alla fine, ma lo ha fatto anche tanto riflettere. Bravissimi, Clarizio Di Ciaula è l'accompagna teatrale dell'Orfeo. Dice Valdamerini, devo liberarmi del tempo e vivere il presente, giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. Sì, è stato un debutto che come tutte le prime assolute come opere è sempre un punto interrogativo perché non si sa se incontrerà il favore del pubblico. Devo dire che è piaciuto il testo, loro sono stati molto bravi, è il quarto o quinto spettacolo degli allievi della scuola di recitazione del teatro Orfeo, allievi che mi seguono da un po' di anni e che quindi portano in scena un testo nuovo. Quindi si incontrano e si sposano con personaggi che non hanno un passato, nel senso che è scenico, un palcoscenico. Quindi è sempre, ripeto, un interrogativo se possa funzionare o no, a prescindere dalla messa in scena o dall'interpretazione. Il testo nuovo è sempre un punto interrogativo, però credo che il pubblico abbia apprezzato, è piaciuto e sono molto contento di questo. Grazie a tutti.